1, 2, 3, 4 Ciao a tutti ragazzi, qui è Rix e oggi siamo in un nuovo episodio di una nuova serie, ovvero Fallout Shellder In questo periodo ragazzi sto iniziando veramente tante, ma tante serie Perché sono usciti abbastanza giochi Per esempio Fallout Shellder che è uscita adesso per Android, cioè in questo periodo Diciamo, nuovo Vault Lì io direi di mettere un bel 6 6 E 6 è già impostato Crea Vault Quindi il Vault di Saturn Complimenti, la Vault Tech ha scelto te come soprintendente Grazie Il Vault tiene la gente al sicuro dei pericoli della zona contaminata Perfetto In qualità di soprintendente il tuo compito è di espondere, gestire il Vault e mantenere gli abitanti felici e al sicuro Ogni stanza è legata a un parametro special Assegni gli abitanti con lo special più adatto per renderli felici e produrre risorse extra La Vault Tech ti valuterà giornalmente in base ai tuoi risultati Ricorda di rendere felici i tuoi abitanti e tutto andrà bene Benissimo Ok Consiglio utile Benvenuto nel suo nuovo Vault e soprintendente Partiamo dalle nozioni base Prima cosa crea una stanza e tocca l'icona martello per aprire il menu creazione Generatore Quindi lo selezioniamo Crea Io direi di metterlo Allora questo qua non so cosa sia Quindi il generatore lo mettiamo qua Vorrei fare delle stanze da due Ora ci saranno gli abitanti affinché il generatore produca energia Guarda, nuovi abitanti si siano presentati alla porta del Vault Allora abbiamo Visto che si possono cambiare i nomi Direi di chiamarlo Bobby Ok Lui è Bobby Si, avrà abitanti maschi e femmini e fa nascere dei bei bambini Ok, perfetto ragazzi Ora Ora, ora, ora Direi di creare Un secondo generatore Che lo mettiamo qua così si espande Poi, poi, poi Creiamo un'altra mensa Creiamo un'altra mensa e la mettiamo qui Poi non abbiamo più Non abbiamo più soldi Sono i due abitanti alla stanza adatta Ok Obiettivo raggiunto Poi andiamo qua Cos'è che abbiamo qua? È la prima volta che ci gioco ragazzi Sinceramente Negozio Allora qua ha soldi Quindi noi non spendiamo soldi Sblocca qui perché? Ordina Cosa si bisogna fare? Tac Boh, non voglio Poi, poi, poi Io direi che potremmo Ah, altra gente Altra gente Altra gente Ancora gente Quanta gente c'è? Tutte e due penso abbia Sì Quindi la mettiamo in una a caso Una in cui ce n'è solo una Nessuno Sì, i dormitori Ti mettiamo nei dormitori Così a cavolo E nei dormitori Solo che adesso Dovrei fare Così Allora facciamo così Togliamo questi due abitanti Li mettiamo Uno qua E uno qua No Cavolo Ah, li metto in quello Espanso Espanso si dice Credo di sì Lui sta andando qua Vero? Credo di sì Ecco Lui va lì E questa qua La possiamo mettere ancora qua? Sì Penso di sì Sì, sì, sì Perfetto Ora qua Lo distruggiamo Sì Creiamo Un altro dormitorio A 130 Costa di tappi Ragazzi Non so sinceramente Come fare Allora ragazzi Sì, ho capito un po' come funziona E ho capito che dobbiamo Dobbiamo fare gli obiettivi Per Per Come dire Questo qua È bravo in Fortuna Fortuna Lo mettiamo In uno Ovvero Nella mensa Così No Anzi no Non possiamo Quindi qua È pieno Giusto? Quindi dobbiamo prendere Tipo lei No, lei forse ha tanta agilità Ragazzi Non so chi prendere Allora Jennifer Catherine No Quindi O Judith O Jennifer Io prendo Judith Sì Capito La mettiamo qua Giusto Sì, si può Così lui Lo mettiamo qua In fortuna A volte A volte è pieno Ah cavolo Non ho soldi Allora ragazzi Ho un'idea Che non possiamo togliere un abitante O no O sì Possiamo togliere un abitante Ah no Niente Non lo valutiamo ragazzi Perché noi siamo cattivi E non so come fare Se avessi avuto quello lì Con fortuna Sprintavo Vediamo se va bene o va male Benissimo Ok ragazzi Adesso possiamo Uh Cos'è? Una scatola Allora Tipo nel dormitorio Anche questo Ok Non abbiamo più acqua Quindi direi di Mettere Una Che c'è qua Facciamo così Mettiamo una Che c'è qua Questa che è più Giuditta Una a caso Quindi Mettiamo Questa qua No Judith Che prima era qua La rimettiamo qua Lui Il tizio Lo mettiamo qua Ecco Così Adesso No No Non lì Dove è il cos'è Ah Non ce l'ho Cavolo Non è il cos'è D'acqua ragazzi Allora Andiamo a prendere Il nostro I nostri Questi così qua Non so cosa siano Vaule tech Allora Abbiamo delle carte Allora Prima carta Radawai Non so cosa sia ragazzi Radawai Vestito Buono 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 Molto buono Tappi Grandissimo Così magari Riusciamo a costruire Oh Che 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 roba assurda Abbiamo trovato ragazzi Due vestiti Oddio Allora abbiamo Ok Carabina Un Radawai Di nuovo Tappi Altri tappi E lancia fiamme Temperate In prato Perfetto ragazzi Quindi siamo Veramente a postissimo Prendiamo Prendiamo Depuratore D'acqua Lo prendiamo Costa 100 Quindi ne possiamo subito Costruire due Io direi di metterne Uno qua Poi ne costruiamo Un altro Crea E lo rimettiamo qua Perfetto Abbiamo tutti questi che sono saliti di livello Abbiamo un bot di roba Quindi io direi di mandare un po' di gente nel depuratore d'acqua Tu Roy White E io ti chiamo E io ti chiamo Oh calmo E io ti chiamo Porca Vacchina Roy Black Prendiamo il nostro cibo L'acqua c'è? No Completato 50 di cibo Perfetto Niente Allora ragazzi Il primo episodio finisce qui Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo sempre di lasciare un bel like Un commento Condividere il video Iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Iscrivetevi E noi Ci rivediamo al prossimo Video